Oggi vi parlo in un minuto di Avere Tempo di Pascal Chabot, edizione Treccani, sottotitolo Saggio di Cronosofia. Allora, il titolo Avere Tempo è leggermente fuorviante, perché potrebbe sembrare che si tratti di un libro che ti spiega come organizzare meglio le tue giornate per ottimizzare il tempo. In realtà non si tratta di questo. È un libro molto utile, però, per chi lavora come me nella comunicazione, perché oltre a ripercorrere la storia del tempo, di come l'umanità nelle varie epoche l'ha percepito, spiega perfettamente come viene sentito il tempo dalle diverse generazioni attuali. Offre quindi una chiave di lettura e di interpretazione di quelli che sono i divari generazionali più sentiti del nostro tempo, legati alle tecnologie informatiche, legati alla rete, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente un libro molto utile, molto interessante, e racconta perfettamente, parla di filosofia del tempo. E poi a ognuno di noi lettori la chiave per interpretare ed aprire le porte che ci troviamo davanti, grazie a questo bellissimo libro di Pascal Chabot. Chabot. Chabot.